Tutto quello che ama è in pericolo Ha dei bellissimi occhi tua figlia Cosa? E per difenderlo a un solo modo Voglio sapere cosa volete E lo voglio sapere subito Minacciare il sistema che doveva proteggere Tu hai scritto il software Tu troverai l'accesso Harrison Ford Il ciclo serial thriller Firewall Accesso negato Sabato alle 21 con Iris